Grave incidente ieri sera intorno alla mezzanotte in via nazionale a Torre del Greco. Urla disperate nelle immagini quelle dei familiari e delle persone rimaste ferite in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Coinvolti nell'impatto tre veicoli, due auto, una 500 e una Panda e uno scooter. Tra i feriti c'è anche un bambino di un anno ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli. Sulla dinamica del sinistro, avvenuto all'altezza di un distributore di benzina e non distante dai locali che ospitano un ufficio postale, indagano gli agenti del locale commissariato di polizia che hanno eseguito i rilievi e coordinato i soccorsi ai soggetti rimasti coinvolti. Ancora non è chiara l'esatta dinamica dell'incidente. Stando ad una prima ricostruzione, una manovra azzardata avrebbe determinato lo scontro tra le auto e lo scooter che viaggiavano in direzioni opposte. Due le persone trasportate in ospedale in codice rosso. Una donna di 42 anni all'ospedale del mare, il piccolo occupante di una delle due auto al Santo Bono. Il conducente dello scooter si trova invece all'ospedale Maresca. Sembrerebbe che le sue condizioni non siano gravi.